Ora queste caserme hanno vissuto nel tempo diverse stagioni. Si parla di caserme visto come un'opportunità, come una risorsa per il paese e per lo sviluppo. Questi luoghi sono grandi opportunità, abbiamo visto anche che possono essere problematiche. Offrono alla città la possibilità di convertire la loro destinazione ed insediare una serie ad esempio di servizi o di spazi aperti. Per partire dai paesaggi militari, non un paesaggio militare ma tanti paesaggi militari. E così riscopriamo una Sardegna densamente popolata di insediamenti. Sono veramente tante le difficoltà che bisogna affrontare. Una necessità enorme che noi abbiamo a livello cittadino di spazi a posti ridotti. Grazie a tutti.